Allora, Rosso del Cento, Laura Pasqua e Luigi Musa! Spero per voi, si ispirerà altri cioccoli! Arbido Centrale, il Maestro Armello Musa! Arbido Centrale, il Maestro Armello Pasqua! Arbido Centrale, il Maestro Armello Pasqua e Luigi Musa! Però, prima che inizi... Mi vedo, Lucia, basta la musica! E' cominciato! C'era la musica! Prima che inizi, siccome abbiamo interrotto un altro... No, non sono io! Ci sono i maestri, che in questo caso da vetrini, per questo avevo conservato lo spazio, che è giusto che dicano loro, innanzitutto, delle cose, perché, boh, meglio di loro, nessuno! Nel segreto del tatani, nel segreto di questa disciplina, a prescindere che siano dai vostri figli, perché credo che comunque siete stati soprattutto maestri, e non genitori, credo! Sì, sicuro! Allora, è il risorto del pulicidio della festa! E' il cognome! Ciao a tutti! Come stai? Ecco, perfetto! Siamo a Natale, però ci prepariamo alla Pasqua, da questo punto di vista il cognome è pazzesco, è il gioco della Pasqua! e conoscere il calato... Sì, signor Pasqua! signor Pasqua, signor Pasqua, signor Pasqua, a lei, il concetto di questo sport, e magari dire qualcosa signor Pasqua, se questo sport, non sposte, voce! Non facile, non sposta abbastanza con il senso, però la cosa, voce! la cosa che secondo me è che, la cosa più bella, è il fatto che gli attretti, che vogliono far parte della nazionale, non è facile far parte della nazionale, poi addirittura partecipare anche a un campionato mondiale, ma poi addirittura salire sul podio, è una cosa fantastica, veramente, che ci ha preso tutti e due insieme, che difficilmente è capitato... Facciamo mai! ... 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 Diciamo che a difesa di altri sport, linguaggio, telecamere, media, c'è poca visibilità, no? ... ... ... ... ... però è una cosa che si fa sentire, quindi ora lo sentiamo, perché è giusto chiudere questo momento, forse... ... ... ... ... ... ... ... luigi ti dà il salario in pubia forse sono un po' più abituato a parlare di lo chancur lui sta un po' più dietro le quinta tanto quanto meglio io una cosa che volevo dire invece che sono molto no felice, strafelice per quello che ha fatto Laura perché ha fatto quattro mondiali e se ne è andata sempre con la mare in bocca e fare una medaglia, fare un bronzo perché facendo il bronzo si esce da vincitrice perché vingo l'ultimo combattimento che mi porta sul cuore e effettivamente fare una medaglia mondiale e la seconda donna in Italia una ha fatto l'oro che se lo sta godendo lì a Verona con tutti i media che mi stanno parlando e lei ha fatto il bronzo la nazionale è composta da 5 attritte femmine e cinque maschi perciò solo loro due siciliani un maschio e lei hanno portato la medaglia e l'altra sera sta godendo fuori però quello che ha fatto Laura effettivamente per me sono strafelice perché pare tante gare come ha detto lei due anni di sacrificio aveva perso il video di me stessa questa medaglia l'aveva portata al vertice grazie 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 direi una bugia, perché vedere di fare l'ennesimo mondiale, tutto mondiale, fatto come l'ha fatto lui, senza subire un punto, come il mondiale fatto a Parigi, farlo in quella maniera e non riconfermare il titolo mondiale, lascia la mare in bocca, però io quando ci siamo parlati poi fuori, ho detto guarda sono scontento ma felice nello stesso momento, perché dal di fuori, vedere quello che ha fatto lui, vedere essere il più forte della categoria, questo mi dà fiducia per un prossimo futuro che ci dobbiamo riprendere quello che abbiamo regalato. Questo giro dà una cosa di brutti obiettivi, vuole sempre vincere, ma voglio vincere perché i sacrifici ci sono, loro ce la mettono tutta, lui ce l'ha messa sempre tutta ed effettivamente siamo arrivati a tre quarti, penso in avvicinati, perché uno che fa in cinque mondiali, tra i quali tre consecutivi fa le finali, fa quattro finali, due argenti e due ori, in più tutti i titoli, non sono mai volte europei, abbiamo questo il conto, e il primo nella classifica mondiale dei migliori dieci al mondo di tutti i tempi, nella categoria 75 pili c'è una classifica che c'è un sito, che recluta tutti i mondiali dal 70 ad oggi, lui ha scalato la classifica il primo 75 pili al mondo di tutti i tempi, e il secondo, appunto ancora abbiamo Agaev che lo andremo a battere a casa, andremo a Baku, alle Olimpiadi europee il prossimo anno, sperando che tutti e due facciano la qualificazione, che si devono qualificare al campionato europeo che si farà a marzo in Turchia, a Istanbul, e sperando di andare a Baku e sfidare Agaev, perché questo mondiale è anche l'europeo scorso, per motivi fisici non è stato presente, però Baku è una grossa vetrina, sono le Olimpiadi europee, andremo lì a fare del nostro meglio, e forse a fareci vedere con il giocento delle uratari, perché le altre nazioni funzionano in un altro modo, a noi ci testa la gloria, agli altri la Turchia, l'Azerbaijan, guardate che sono agguerriti, ma no così, con le unghie di fuori, perché lì vi parlano profumatamente, perché sono sport degli eventi, fatato l'aspetto di come questo è uno sport orientale, si, fatato, anche se il giapponese ancora si difende, c'è da dire che, attenzione alla frase, anche se ancora il giapponese si difende, non la vichino dubbola, cioè è così un pochino, è fatato questa legge, ok, adesso possiamo dire cosa devono fare, ma che c'è tanto, no, 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 mi dovete togliere, vai, vai, intanto arbitro centrale e arbitro centrale, gli altri arbitri sono la mamma di Luigi e la mamma di Laura, così facciamo un punto e un punto, vai, vai, qua, sedute, sedute ai quattro anni, e poi prendiamo due persone a compenere, Andrea Di Pietro e Cristina Augustava, vai, bestimmte всё che sta calzando, ma per me non riesci a prendere, ci sia un po' di tre per 5 anni... anche se... più volte torna per me, grazie a fare... poiché più forte... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti